Sulla gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2020 è stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento di 571 allievi finanzieri così ripartiti, 315 riservati ai volontari in ferma prefissata delle forze armate, 256 rivolti ai cittadini italiani, 18 posti sono riservati a coloro in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976. Per la prima volta sono stati destinati 120 posti all'arruolamento di personale da avviare al conseguimento della specializzazione antiterrorismo e pronto impiego ATP. Al concorso possono partecipare coloro che abbiano alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di età. Il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017 svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione è necessario essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado per posti riservati ai volontari delle forze armate di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea per i restanti posti. La domanda di partecipazione al concorso da presentare entro le ore 12 del 29 gennaio 2021 dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata PEC dopo aver effettuato la registrazione al portale potranno accedere tramite la propria area riservata al form di compilazione della domanda di partecipazione. Sul sito internet tramite l'app mobile gdf concorsi è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del bando.